Parere positivo dell'EMA all'Agenzia Europea dei Medicinali per Evolocumab, il primo anticorpo monoclonale completamente umano per il trattamento dell'ipercolesterolemia. Secondo gli studi, grazie a questa terapia, il valore del colesterolo LDL viene più che dimezzato. Il farmaco è indicato per quei pazienti che non riescono a raggiungere livelli idoni di colesterolo LDL con i farmaci attuali e per i pazienti con ipercolesterolemia familiare. Recentemente sono stati sviluppati degli approcci terapeutici. Al momento soltanto con anticorpi monoclonali che permettono di rimuovere questa proteina che ci fa aumentare il colesterolo plasmatico e quindi riduce il colesterolo LDL. I risultati ad oggi sono eccellenti in termini di efficacia perché si ottiene una riduzione al di sopra delle statine di circa il 50-60% ulteriore del colesterolo LDL e la sicurezza d'uso, per quanto ne sappiamo, devo dire che abbiamo studi soltanto un anno, un anno e mezzo, quindi vanno ulteriormente verificati questi dati, ma ripeto, per quanto ne sappiamo è eccellente. Quindi direi proprio che si tratta di una classe di farmaci molto promettente. Sono degli anticorpi monoclonali che iniettati una volta al mese o due volte in 15 giorni permettono di ridurre significativamente quei valori di colesterolo cattivo, quello LDL, quello che sporca le coronare e le arterie cerebrali, quello che fa venire l'infarto e l'ictus del 61%, raggiungendo quei valori target oltre quei valori target che permettono al paziente di ridurre significativamente la mortalità sotto il 53%, che è una mortalità veramente bassissima.